allora eccoci di nuovo qua con una nuova serie tutorial la voglio creare perché vedo ogni tanto ci sono e a mi fa piacere ovviamente nuovi gamer che si approcciano a questo gioco che non è ovviamente di facilissima interpretazione inizialmente se non si ha una minima di stichezza sul mondo del trasporto in più poi ci sono anche altre cose ovviamente che vanno tenute in considerazione essendo un gioco di nicchia è un po particolare quindi ci sono delle cose che vanno scoperte se praticamente nessuno ovviamente le dice all'inizio è un po complicato poi alla fine riuscire a capire alcuni meccanismi però iniziamo intanto con questa nuova serie che sarà un tutorial iniziamo ovviamente una prima con questo primo video dove ovviamente spiegherò soltanto la parte relativa ai menu che sono presenti nel gioco poi nel prossimo video ai prossimi video cominceremo a costruire le linee vere e proprie e vedere anche ovviamente un minimo di strategia quindi iniziando con la parte in alto a sinistra dove c'è dove c'è l'hub l'hud qui ci sono vari menu anzi vari sottomenu ovviamente ognuno ha la sua importanza cominciando dal primo che sono i contour lines ovvero le curve di livello queste praticamente servono in mappe dove ci sono parecchi dislivelli e queste sono utili perché praticamente è bene seguire un andamento della linea stradale o ferroviaria il più pianeggiante possibile ovviamente anche seguendo le curve di livello perché il terreno più diventa scosceso più costa costruire una linea ferroviaria o un pezzo di strada perché ci sono le pendenze da superare ci sono praticamente possibili possibilità di inserimento di viadotti o gallerie quelle pure sono cose che costano e quindi anche ovviamente è utile per definire i raggi di curvatura perché una una curva più stretta e la velocità sarà minore quindi la maggior parte delle linee si tenderà a farle cercare di farle più rettiline possibili compatibilmente col terreno ovviamente e questo aiuta mentre la questa 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 modalità ovviamente aiuta perché qui si vede praticamente tutto quanto il terreno come ha costituito e quindi mentre si vede la curva di livello quindi si cerca di mantenere il la pendenza sullo zero il massimo che si può fare ovviamente perché poi ovviamente se ci sono mappe che sono completamente montagnose ovviamente hanno ci sono mappe del genere a quel punto diventa complicato quindi però si può seguire sempre le nostre curve e aiutandoci con queste poi si può garantire un minimo di risparmio sulla costruzione della linea e magari anche un minimo di velocità più elevata rispetto a una linea ovviamente che corre completamente in pianura queste sono le acque navigabili se c'è praticamente un un terreno dove praticamente c'è l'acqua c'è l'acqua navigabile comparirà verde eccolo qua e questo serve se in caso ci sono i fiumi se dovete costruire un ponte ovviamente se il ponte troppo basso questa parte qua diventerà purtroppo non transitabile per le navi in questo caso vediamo che comunque diventa verde rimane verde vediamo che è possibile farlo ovviamente così poi ci sono punti ovviamente che possono essere fatte anche più bassi però questo è un esempio praticamente fatto questo questo ponte praticamente consente il passaggio delle navi tutti i punti che sono segnati in rosso le navi non ci andranno non sono punti navigabili quindi questo qui serve per le mappe dove c'è acqua mappi ovviamente dove non c'è acqua questa qui è una parte totalmente inutile qui vediamo il land use ovviamente le tipologie di zone che sono presenti all'interno delle varie città la parte verde e quella residenziale dove ovviamente abiteranno le persone la parte azzurra ci resta ovviamente quella commerciale e la parte gialla ovviamente quella industriale ogni zona ha le sue caratteristiche ovviamente se uno ha il gioco vaniglia in pratica non ci sono grosse differenze perché le cose sono poche quindi i prodotti che possono essere consegnati in città sono soltanto due e quindi praticamente non ci saranno grosse difficoltà perché i prodotti sono quelli che saranno suddivisi poi per zone commerciali e zone industriali mentre poi invece la parte residenziale praticamente non ha nulla mentre invece se utilizzate delle mod che consentono di avere più risorse trasportabili come ho in questo caso io nel gioco come possiamo vedere le due principali sono queste qui sono ovviamente i macchinari e gli attrezzi ma se clicco praticamente sopra alla città poi vedrò che è possibile trasportare la posta al carburante le merci e i materiali della costruzione e il cibo e quindi praticamente sono di più e ovviamente queste parti qua servono questa suddivisione serve per capire dove portarle perché ovviamente le merci devono essere consegnate presso le zone a cui fanno riferimento perché in questo caso vediamo subito anzi no mettiamo con questo andiamo qui qui possiamo vedere che nella zona industriale ovviamente possiamo trasportare soltanto la posta mentre invece nell'area quella commerciale c'è le merci gli utensili e il cibo mentre invece quella industriale carburante materiali della costruzione e macchinari in più queste cose ovviamente alcune alcune abitazioni o alcune alcuni fabbricati merci produrranno ovviamente questo soltanto se uno ha le mod per il trasporto di più merci nelle città come possiamo vedere in questo caso questo qua se si porta carburante e attrezzi produce scarti metallici questo è il simbolo dello scarto metallico facciamo una cosa anzi così così lo vediamo eccolo qua cargo production waste sono scarti metallici che possono essere portati nelle industrie fatte apposta mentre invece la parte questa del residenziale avremo che se trasportiamo della posta ci sarà apposta in entrata ci sarà anche dalla posta in uscita non tutti lo producono ovviamente ma alcuni si anche questo per esempio vediamo che trasportando il le merci e gli attrezzi praticamente abbiamo la posta in uscita quindi praticamente poi ci saranno quelle che hanno due o tre secondo praticamente la quantità che possono ricevere all'inizio e questo qua praticamente serve per quello quindi da qui poi possiamo anche produrre da altre merci per trasportarle altrove e guadagnare ulteriormente questa è la track speed limit layer ovviamente fa vedere in pratica le limiti di velocità delle varie linee ferroviarie più va sul rosso più la velocità è bassa più va sul celeste più la velocità è alta ci saranno segnate ovviamente sulle linee anche i e la velocità e i limiti anche in chilometri orari quindi vedremo se in caso costruiamo una linea ferroviaria la mettiamo come possiamo vedere questa è una linea è un tratto di ferrovia che va al massimo a 100 anche rettilineo e sarà a comparire a 100 e qui veramente il colore sarà celeste che la velocità massima perché in questo momento è consentita questo è il destination layer ovviamente qui abbiamo la quantità di trasporto pubblico e privato nonché il numero di persone che tendono a usare questi mezzi in questo caso è soltanto trasporto privato perché non abbiamo trasporto pubblico perché abbiamo 11 questi numeri sono ovviamente cresceranno con l'ingrandirsi delle città e ovviamente quello svilupparsi le linee delle linee quindi più il numero è grande più passeggeri avremo a disposizione e questo serve per capire poi gli spostamenti che avranno le diciamo gli abitanti che vivono in quella città perché poi ovviamente gli abitanti che vivono nella città si spostano prevalentemente dalla zona residenziale a quella industriale per il lavoro a quella commerciale per il tempo libero quindi fanno acquisti praticamente però possono anche andare a lavorare o acquistare in altre città se sono collegato ovviamente quello poi si vedrà successivamente questo è il cargo layer ovviamente quello che diciamo prima lo possiamo vedere anche da qui e questo fa vedere praticamente zona per zona tutte quante le tipologie di merci che si possono consegnare e che servono ovviamente per lo sviluppo della città questo invece è lo station layer ovviamente qui fa vedere in pratica qui abbiamo avevamo già messo un cargo praticamente una una diciamo una fermata per lo scarico delle merci all'interno per fare una prova e qui fa vedere praticamente quali sono qual è la situazione delle stazioni ovviamente più è rosso e meno ovviamente scaricano praticamente in questa stazione più azzurro e più scaricano questa situazione del traffico ovviamente in questo momento non c'è perché non gira nessuno anche perché poi il gioco è fermo in questo caso l'ho messo in pausa e le i lucchetti che vedete praticamente sono se io clicco su questo la strada diventa proprietà dell'owner però diciamo che attualmente non essendoci per esempio questo sarebbe stato utile se costruendo un'autostrada mettendo dei caselli che ci sono le mod con i caselli per il pagamento ma non funzionano praticamente come come casello per pagare il pedaggio ma soltanto come fermate per gli autobus o i camion quindi ancora non non hanno reso attivo il pagamento dei dei pedaggi questo invece è l'emission layer ovviamente questo che l'indice di rumore più sarà alto più la città ne risentirà quindi praticamente la cosa ideale sarebbe quella di costruire stazioni ferroviarie aeroporti ovviamente gli aeroporti vanno così di molto lontano ma le stazioni ferroviarie andrebbero costruite abbastanza non lontano diciamo dalla zona industria nella zona è quella residenziale perché poi sono quelli cittadini che si infastichiscono di più e portarli voi con i mezzi pubblici alla stazione quindi si fa fideraggio ovviamente con con i mezzi di trasporto terrestri poi più alto è il rumore ovviamente più l'indice di crescita della città si abbasserà questo quello vediamo poi nel layer diciamo nel menu quello della città l'ultimo è soltanto l'idapp display delle icone quindi praticamente togliendo le tutte quante non vedremo più un'icona sulla mappa rimettendole invece vediamo tutte quante quindi vedremo i nomi delle città i nomi delle industrie gli incassi le perdite i segnali i depositi le fermate dell'autobus del tram le stazioni treni autobus mezzi aerei e mezzi navali che normalmente disattivo quella dei costi perché mi rompe un pochettino vedere tutte quelle cifre rosse che salgono tutte insieme ogni 28 giorni disattivo questa il resto lo tengo poi ovviamente ognuno è libero di scegliere quello che vuole e quindi non c'è problema in ogni caso comunque per ora questo qui questa parte qua l'abbiamo terminata andiamo scendiamo sotto facciamo il giro anti orario questo è l'account ovviamente con le caratteristiche dei nostri investimenti con tutti gli importi che ci sono quindi incassi in azzurro spese in rosso si cerca ovviamente ad andare in positivo quindi dovrebbe rimanere azzurro qua sotto all'inizio ovviamente non sarà possibile perché il gioco si parte con un investimento base che dipende dalla dalla difficoltà del gioco e a mano a mano poi bisogna ripagare il debito che abbiamo queste sono le chart balance track e town ovviamente qui si fa vedere la crescita o la decrescita questo è il bilancio ovviamente bank bank balance e il velu il velu il vento sarebbe il valore della compagnia e vale e questo ovviamente la compagnia ha un valore in base ai propri asset quindi stazioni fermate treni autobus camion e via dicendo va in base anche le tappo dei mezzi perché i mezzi più invecchiano e meno valgono ovviamente queste sono le linee fa vedere il totale la speed di tunnel le linee elettriche e i ponti e qui fa vedere praticamente la popolazione i posti di lavoro e i negozi delle varie città in base a come fanno amanti con gli anni in base a maniera tra gli abitanti che hanno praticamente questo è l'heat quarter che fa vedere veramente che è possibile costruirne uno che inizialmente sarà non più che una baracca ne mettiamo uno ma giusto così perché ha dato un costo abbastanza risorio nel quarter eccolo qua lo mettiamo qua e quindi veramente questo qui poi crescerà a mano a mano che cresce il valore della compagnia e qui vediamo tutti quanti i dettagli con la liquidità ovviamente gli asset ovviamente sono composti della liquidità dall'inventori real estate e vehicles poi ci sono la liability che presenta il prestito ovviamente che questo è un debito di 5 milioni inizialmente e qui c'è il profitto degli ultimi 12 mesi in questo momento siamo meno di 10 mila perché ho fatto delle spese ovviamente qui vi fa vedere quanti sono i mezzi stradali quanti tram quanti treni quante navi quanti aeroplani sono nella parte della compagnia la top speed ovviamente la velocità massima raggiunta da un da tutti i mezzi quindi normalmente quando arriveranno gli aeroplani saranno quelli più veloci indubbiamente questo è il tratto di ferrovia più lungo complessivo il veicolo più più vecchio e questo c'è il total tracks e total electrified total speed total bridges e total tunnel ovviamente questi sono in metri qui ci sono cargo trasporti del totale delle merci trasportate totale dei passeggeri trasportati questo è invece quello dagli ultimi 12 mesi il numero delle linee e i differenti tipi di merci trasportate questo diciamo è un sunto di tutta quanta la compagnia su questa parte qua qui abbiamo ovviamente la in line manager qui possiamo costruire le linee quindi possiamo scegliere di fare selezionare praticamente la linea terrestre di autobus o camion ovviamente questi sono tram questi sono treni questi sono navi e questi sono aerei in base alla tipologia poi ovviamente dovremmo collegare le stazioni e vedere come si fa poi nei video successivi lo vedremo questo invece è il vehicle manager qui si vede praticamente il nome del veicolo la linea e le condizioni attenzione perché i veicoli poi a mano a mano che invecchiano poi costano un po di più di manutenzione e valgono meno quindi più aspettiamo a cambiarli meno soldi prendiamo quando li sostituiamo perché poi quando sostituiamo un mezzo avrà un prezzo che poi verrà decurtato dal valore del mezzo stesso quello nuovo quello vecchio praticamente diamo indietro l'usato in pratica prendiamo un nuovo se l'usato vale 100 il nuovo vale mille pagheremo 900 praticamente il discorso è molto semplice qui ovviamente è possibile tutte le tipologie di mezzi queste sono tutte queste sono ovviamente bus tram bus o camion ovviamente treni navi e aerei questo qui ovviamente è molto semplice perché poi da qui possiamo vedere alcune cose per tipo la condizione è importante perché varia poi da very good a very bad ovviamente poi quando arrivano a very bad vanno sostituiti perché poi a quel punto i mezzi sono vecchi questi sono i menuti questi sono i menuti costruzione stradale ferroviario acqua l'aeroplane diventeranno disponibili dal 1920 questo è il terrain tools ovviamente dove è possibile modificare il terreno e poi aggiungere asset oppure mettere alcune alcune diciamo colorare il terreno alcune col paint tools quindi possiamo scegliere di mettere che ne so un'erba più scura piuttosto che più chiara con un ponte con il pennello predefinito oppure mettere che ne so alcune differenti ovviamente per tipologia per tutto quanto e come possiamo vedere eccolo qua abbiamo cambiato praticamente il terreno possiamo ovviamente al calzarlo o abbassarlo e quindi mentre adesso abbiamo finito i soldi ma comunque non è un problema che tanto questo qui è un tutorial quindi poi ripartiremo tranquillamente questi sono gli asset che abbiamo e abbiamo a disposizione all'inizio poi gli asset li vedremo a mano a mano che giocheremo e andremo avanti nel gioco e quindi mentre perché ognuno si differenzia dall'altro e poi a mano a mano che andremo avanti con gli anni gli asset si aggiungeranno quelli nuovi e quindi mentre saranno sempre di più saranno questo invece fa parte delle mod le mod dello sviluppo dell'industria che io qui ce ne ho parecchio nel gioco saranno più o meno oltre 200 sono grossomodo e qui possiamo vedere possiamo piazzare alcune industrie dove dove vogliamo ovviamente hanno un costo molto elevato perché variano dai 15 milioni in media eccolo qua possono arrivare anche a 150 poi secondo qual è la tipologia di di industria che stiamo per inserire questa costa 85 questa costa 15 anche questa questa 40 questa 15 ma ce n'è ancora una che costava molti soldi non mi ricordo qual era comunque ovviamente questo il prezzo è molto elevato quindi questo si può usare soltanto quando poi avremo molti soldi e questo ovviamente è una mod è la mod quella che diciamo permette poi di avere più merci che si possono consegnare presso praticamente le varie città e questa mente utile soltanto per quello che poi se uno vuole aggiungere qualcosa in più e non gli soddisfano quelli che la mappa gli ha messo randomici volendo investe una bella cifra e inserisce questi nuovi queste nuove industrie ovviamente le industrie una volta piazzate non possono essere più rimosse quindi qualunque cosa mettiamo quando viene più rimosso questo ovviamente il menu del bulldozer questo distrugge qualunque cosa ovviamente mette sopra quindi non è un problema e qua passiamo ovviamente invece a questi menu che sono praticamente le statistiche delle linee qui vediamo tutte le linee ovviamente di queste tutti i tipi però possiamo selezionare ovviamente sempre soliti terrestri tram ai treni navi aerei con tutti i vari i vari dettagli quindi il nome della linea il veicolo la tipologia di merci trasportato o passeggeri secondo perché possono essere il cargo perché può anche essere un passeggeri perché se entrando in passeggeri un aereo non è cargo ovviamente che soltanto passeggeri vedremo soltanto i passeggeri la frequenza il rate ovviamente e il balance che ovviamente fa vedere se la linea è profittevole o meno se in rosso no dovrebbe essere in azzurro quindi lo scopo del gioco è quello ovviamente il tutorial lo sto facendo per quelli che decidono di giocare il gioco non in modalità sandbox oppure no cost perché a quel punto c'è questa qui poi tutta la parte del bilancio non vale più niente quindi e anche le strategie lì uno prende costruisce le linee come vuole tanto non paga niente se vuole fare il plastico ferroviario su train fever transport fever 2 può farlo tranquillamente è una scelta quindi io non l'amo particolarmente l'opzione infatti non ci gioco quasi mai a questo punto è preferibile giocare con la modalità semplice giochi easy che comunque già per lì all'inizio è già abbastanza complicata anche la easy e quindi però preferisco quella la sandbox per chi vuole comunque tranquillamente può giocarla non è un problema queste sono le statistiche dei mezzi ovviamente questa è la prima delinea questa invece sono i mezzi proprio singoli fa vedere mezzo per mezzo praticamente tutti quanti i mezzi terrestri navali o aerei che ci sono con tutte le varie caratteristiche la manutenzione la condizione le emissioni tutto quanto l'età via dicendo il bilancio ovviamente singolo per per mezzo singolo questa è la statistica delle stazioni qui fa vedere veramente tutte le varie tipologie di stazione la città dove è il tipo di stazione l'overload e il maintenance ovviamente questa costa 120 euro 120 dollari ovviamente questa qui al mese ogni 28 giorni e ovviamente ogni stazione avrà un suo costo perché ovviamente più grande la stazione più costa queste sono le statistiche delle varie città troviamo niente ordinando le dimensioni abbiamo arrivi che la più grande attualmente con 235 abitanti la più piccola e in gamma con 58 qui ci sono il public transport ovviamente questo sono i passaggi trasportati dal trasporto pubblico questi sono quelli che utilizzano il trasporto privato attualmente è tutto quanto perché nessuno usa il pubblico questi sono i cargo principali ovviamente delle varie città ma poi ovviamente ci sono anche i secondari mentre che possono essere trasportati la situazione delle stazioni la situazione del traffico e la situazione del rumore la crescita ovviamente influisce il rumore influisce influisce così come le stazioni e il traffico più valori sono alti delle delle stazioni e del traffico il traffico ovviamente deve essere se è mese e meno vuol dire che va in negativo perché voglio il traffico e tanto stessa cosa il rumore scalerà questo valore del più 20 20 questo diventa questa già meno 40 ovviamente che c'è già dei problemi di suo evidentemente vediamo un po che problemi a questa è questa qua questo abbiamo un perché una situazione del traffico che almeno almeno 60 15 porta che ha visto che c'era un più 20 da qualche parte vediamo un po qual è il più 20 eccolo qua il trasporto personale con lì quello privato però con o meno 60 di situazione del traffico praticamente ci porta meno 40 quindi in decrescita la città in questo caso che non va bene queste invece sono le statistiche dell'industria ovviamente industria per industria far vedere quali sono le richieste questo il prodotto ci sono alcune per esempio che con la mod dell'industria non richiedono nessuna merce di entrata producono direttamente tipo queste le goods conglomerate che producono mezzi e produrono le materie di costruzione ma i macchinari carburante attrezzi cibo e merci generiche queste poi ovviamente ce ne sono molte altre ovviamente in base a quello che c'è dentro e in base a quello che praticamente poi uno vede questo per esempio richiede legno produce tavole questo richiede chicchie di caffè produce il caffè anzi questo è più di effetto stato e produce il caffè questo se mettiamo plastica e acciaio produce le merci questo ovviamente ferro e carbone produce acciaio questo se portiamo il grano produce la plastica e vieni scorrendo queste servono per capire poi il ciclo delle merci ovviamente quindi anche questa parte veramente delle dei menù queste tre statistiche abbiamo concluso c'è la parte questa in alto dove c'è il punto esclamativo qui vedremo soltanto gli warning quando questo diventa rosso e lampeggia c'è un problema su qualche linea o qualche mezzo qualche mezzo rimane bloccato perché abbiamo messo male i segnali oppure abbiamo messo male i deviatoi o qualche camion che praticamente non sa non riesce ad andare nella fermata di destinazione perché magari era stata interrotta perché per sbaglio abbiamo cancellato un pezzo di strada possono succedere varie cose oppure mettiamo un treno elettrico su una linea che non c'è non ha ancora la catenaria quindi a quel punto richiederà una catenaria quindi dirà no electric path e andremo sulla linea dove dovremmo mettere praticamente la catenaria per fare sì che il treno elettrico funzioni altrimenti niente quando ovviamente il problema si risolve questo torna grigio e bianco e non si vede più nulla dei warning ovviamente non ci sono avvisi e quindi niente di niente da segnalare questo è ovviamente per resume serve game log game settings e quit e quindi praticamente questo è molto semplice non c'è niente da spiegare in questo caso e quindi a questo punto direi che passiamo direttamente alle città così abbiamo terminato questo video le città ovviamente ogni città ha i suoi alle sue statistiche qui vediamo i residenti qui vediamo nel shopping facility ovviamente quanti sono i negozi e quanti sono i posti di lavoro questo ovviamente un numero che cambia ovviamente ma mano a mano che la città cresce e in bai come per farla crescere dobbiamo consegnare tutte quante tutte quante per lo meno almeno le una delle due merci che sono indicate qua sopra nel nome della città quindi o gli attrezzi o i macchinari devono essere consegnati poi se uno consegna altre cose oppure quelle altre che sono segnate qua perché nel gioco normale vedrete soltanto queste due io con le mode ne vedo 6 ne vedo in più anzi 7 ne vediamo e poi qualcuna cambia alcune c'è anche di meno secondo all'inizio e portando tutte queste qua ovviamente gli indici questi che vediamo con il più schizzeranno verso l'alto e quindi la città farà una crescita ovviamente molto più elevata qui in questo caso abbiamo un meno 60 quindi il target population è in calo a 62 su 187 se non interveniamo subito e dovremo attendere queste sono le chart ovviamente che faranno vedere la popolazione le i negozi e i lavori vedremo il grafico che sale o scende in base alla crescita o decrescita della città le destinazioni quindi c'è la linea urbana che questa qua segnata con lo 0 per cento attualmente la città quando su se stessa ovviamente qui abbiamo 6 che potrebbero essere interessati ai negozi e 6 al lavoro ma attualmente non abbiamo linee quindi siamo fermi allo 0 e poi queste sono le varie connessioni possibili con le altre varie città che però attualmente il gioco è fermo quindi non abbiamo nulla praticamente da trasportare quindi non ci sono treni non ci sono aerei non ci sono navi non c'è niente e qui abbiamo i suppliers qui in pratica questi sono i suppliers principali che abbiamo noi ovviamente per trasportare gli attrezzi e i macchinari e vengono da queste fabbriche qua ovviamente ogni fabbrica in pratica può rifornire questa città ovviamente poi più è distante più ovviamente il costo della costruzione della linea sarà alto però in questo caso avremo anche un incasso maggiore perché le merci a differenza dei passeggeri tengono in considerazione soltanto la distanza e la tipologia di me la quantità di merci mentre invece le i passeggeri tengono in considerazione anche il tempo che ci impiegano per spostarsi da una parte all'altra più il tempo è veloce ovviamente più guadagni quindi attenzione alle curve strette specialmente con i treni perché le curve strette riducono la velocità e il treno ovviamente ci impiega di più quindi a parità di distanza un treno che ci mette meno guadagnerà di più di un treno che ci mette di più passiamo per terminare a questo punto io passerei alle industrie qui praticamente abbiamo questa che praticamente è produce macchinari che possiamo portare in questa città qua che è vicina però per produrre macchinari ha bisogno di barra di argento e acciaio in questo caso i suppliers eccoli qua abbiamo una sola industria che produce barra di argento quindi dovremmo collegarla a questa per produrre i macchinari ed ovviamente tutte queste che producono acciaio quindi ovviamente può ricevere materiali da 1 2 3 4 5 per l'acciaio è una soltanto dalle barra di argento queste sono le canzone verso ovviamente le città che accettano questi questi merci questo è lo scippi questa realtà il chart ovviamente della produzione e dello spedito e qua poi abbiamo in pratica le varie informazioni sulla produzione ovviamente che per ora per ora è massimo e 400 questo ovviamente questa barra crescerà quando arriveremo almeno a raggiungere questa grigia questa barretta verticale qui sia sulla produzione che sullo shipment che sul trasportato lo shipment sarebbe sarebbe il valore delle merci che da questa fabbrica vanno alla stazione del cadere alla stazione ferroviaria delle merci o al capolinea dei camion quindi questo ovviamente sarà la quantità di inviato alla stazione il trasportato invece quello che viene portato a destinazione perché se noi abbiamo una linea ferroviaria che magari termina in un punto che non è raggiungibile la zona che non interessa per trasportare le gli utensili anzi no questi sono macchinari bisognerà portarli con il camion e finché il camion non porta poi dalla stazione di ricezione dei macchinari alla zona non avremo l'incremento del trasportato quindi a questo punto finché queste queste barre che diventeranno azzurre voi inizialmente sono gialle arriveranno a questi valori qua non arriveremo al livello superiore di produzione quindi questo qua diventerà poi 400 800 al secondo perché poi questi tipo variano secondo tale tipologie di industria possono essere già a 1000 2000 secondo perché dipende dal dalla mod che abbiamo a disposizione e niente questo che quanto è che poi questa ogni ogni industria ovviamente a riceve il suo questa per esempio vuole le sabbie bituminose per produrre carburante e sabbia in questo caso questa per esempio riceve le pietre per produrre cemento ddc e materiali da costruzione quindi ogni industria ogni fabbrica ha i suoi input e output praticamente quindi portiamo delle materie prime presso l'eroma di il suo tema di prima presso l'industria l'industria trasforma i prodotti finiti che dovranno essere poi consegnati o a un'altra industria perché per esempio il ciclo del del carburante è il il pozzo petrolifero che poi trasporta il che bisogna trasportare il carburante verso la prima raffineria la raffineria produce il petrolio raffinato dal petrolio raffinato deve essere portata un'altra raffineria che poi produrrà in pratica il il carburante a quel punto il carburante può essere portato presso le varie città quindi ci saranno due passaggi prima di arrivare alla città stessa cosa anche per altre tipologie di merci ma comunque il sistema è questo praticamente della catena questo quello vedremo poi una volta che iniziamo a giocare nel vero senso della parola e per ora abbiamo soltanto ci siamo soltanto limitati al menu iniziale e quello è come vedere come diciamo capire quello che c'è dentro per vedere come funziona tutto quanto il gioco bene a questo punto io direi che per ora basta così che ci vediamo al prossimo video con l'inizio della della partita vera e propria quindi a questo punto neanche lo salvo il gioco e va bene così così recuperiamo quello che abbiamo messo prima e ripartiamo con i soldi quasi intatti bene spero che il video sia stato utile quindi a questo punto ci sentiamo al prossimo quindi al prossimo video